E di origine Aretina questa è un po' una sorpresa, ce la dica un po'? Monnanni, è un cognome tipico di Arezzo della Valdichiana, di Rigutino esattamente. Oggi ha tifato per il pareggio, ti è stato accontentato. Sono sempre stato un estimatore, ho sempre seguito da lontano l'Arezzo, però ovviamente in questo caso ho tifato Montespaccato, insomma questo è evidente. È un pareggio giusto, in casa Arezzo c'è molto rammarico perché insomma il gol del pareggio è nato da un erroraccio individuale dentro l'area di rigore, lei come l'ha vista dalla tribuna? Allora io non sono esperto di calcio, quindi sono un appassionato, quello che posso dire noi eravamo in una formazione di emergenza, avete visto non avevamo il campo Gallica, era in panchina ma non poteva giocare e quindi insomma abbiamo dovuto fare sordire un ragazzo della nostra Juniors, Anello che tra l'altro ha fatto un'ottima partita. È evidente l'Arezzo ha tutte le carte per fare molto di più del Montespaccato, questo non c'è dubbio, noi siamo molto soddisfatti del pareggio e devo dire faccio i complimenti in particolare al nostro quartiere perché questo viene da una storia particolare, il Montespaccato. Oggi avete visto gli spalti erano pieni e per noi la cosa più importante è vedere che c'è un calcio popolare con tanta gente che segue la squadra.